e vorrei racconto la ragione di tutto il balanzetto perché è una per un altro politico che ha aiutato molto la preparazione di 4 competizioni federali e per un'azionismo cedente a un'azionismo del comune di Barazze Angelo Guadagnè, grazie e per questa specie scoppie il primo mattone Ciao, ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao Ciao, ciao